L'ANAS avvierà nelle prossime settimane lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto Umbro della E45 per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro. Gli interventi, tutti finanziati e per la gran parte già appaltati, ha reso noto la società, riguarderanno l'intero itinerario dal confine con il Lazio fino a quello con la provincia di Arezzo. Consisteranno nel completo rifacimento della pavimentazione fino agli strati più profondi.